dopo aver creato l'esploso faccio file crea disegno dell'assieme e vado a fare la messa in tavola del mio assieme per esempio posso scegliere a tre per esempio prendo corrente e lo trascino prima cosa che faccio tasto destro proprietà e primo angolo metto sempre ricordatevi sempre metto il primo angolo qui per esempio mettiamo uno a due vediamo come applicare modifiche sono qua ritorno schiaccio sulla vista tasto destro proprietà e questa volta mostra in stato esploso e scelgo lo stato esploso questo che è unico faccio ok e mi si mi si esplode a questo punto sono qui vado su annotazioni tabelle distinta materiali lascio solo facciamo solo primo livello ok per come avremmo l'assieme noi faremo solo primo livello e va bene qui mostra tutte le configurazioni della stessa parte come un unico elemento che è il boom standard build of material standard e va bene schiacciamo e qui abbiamo la nostra distinta materiali a questo punto quando abbiamo la distinta materiali andiamo sempre sua notazione bollatura automatica schiacciamo e schiacciamo qui in automatico lui ci ci ha fatto la bollatura dunque per spostarla andiamo qui prendiamo la linea magnetica lo portiamo dentro questo lo portiamo dentro e questo magari lo spostiamo così e dunque abbiamo finito di fare la nostra distinta materiali con la nostra bollatura con la nostra bollatura